Per il Cairo è stata un'altra giornata di tensioni e proteste. Migliaia di sostenitori del deposto presidente Mohamed Morsi sono scesi in piazza accogliendo l'appello dei fratelli musulmani che chiedono la liberazione di Morsi e il ripristino della sua legittimità costituzionale. Identico scenario anche in altre parti dell'Egitto, ad Al-Miniya, la folla ha esibito striscioni con slogan rivoluzionari liberi. Cosa c'è di nuovo? Che sono stati uccisi dei giovani durante le preghiere e per noi questo significa che siamo vicini alla vittoria. Questo perché il Consiglio militare ha completamente perso testa e ragione. I fedelissimi di Morsi urlano al martirio dopo l'uccisione lunedì di 51 persone durante gli scontri con l'esercito davanti alla guardia repubblicana. Intanto per la massima autorità religiosa dell'Islam sunnita l'Egitto rischia una guerra civile.